Ho aderito a Green Blue Days perché trovo che questo sia un progetto molto interessante per la nostra città. Credo nella sostenibilità e il progetto trasformazio che stiamo sostenendo io e Michele Iodice si avvicina completamente al concetto base di Green Blue Days. Le tre R, rigenera, riuso e riciclo corrispondono completamente a quello che è il concetto base della nostra linea trasformazio. Riutilizzare dei vecchi mobili, ormai desueti, i famosi mobili della casa della nonna, utilizzando delle tecniche invece assolutamente contemporanee e dando la possibilità anche ad artigiani che in altro modo non avrebbero più avuto alcune opportunità di lavoro, rientra nel concetto di sostenibilità che è la base dei Green Blue Days.